Ritorniamo in diretta dal Future Channel, qui con Camera di Commercio e Rete 7, davanti a noi l'Arena Bookstock sta iniziando a popolarsi di pubblico, molti gli addetti ai lavori ma non solo, abbiamo giornalisti, gruppi editoriali che parteciperanno a quella che è la conferenza stampa di chiusura di questa edizione 2024 del Salone del Libro. Mancano pochi minuti, è venuto a trovarci, è ritornato a casa qui a Camera di Commercio, Guido Bolatto, segretario generale di Camera di Commercio di Torino, anche tu di chilometri ne hai fatti parecchi qui al Salone anche se gli impegni istituzionali non ti hanno portato a stare ogni giorno qui, chiedo a te, forse è banale però è importante, una prima sintesi a caldo di questa edizione. Direi molto bene, i numeri li daranno adesso ma la sensazione vivendo la città, vedendo dentro il Salone, senz'altro abbiamo fatto il pieno, credo che siano migliorati anche gli ingressi rispetto all'anno scorso, però il dato che ci riportano gli addetti al settore dell'accoglienza, quindi albergatori, ristoratori eccetera, che è stato un weekend da tutto esaurito. E quindi già solo questo sta a dimostrare il successo del Salone. Poi credo che abbiamo anche avuto delle ricadute, diciamo, mediatiche significative perché alcuni ospiti e anche alcune polemiche forse generate attorno al Salone lo hanno portato alla ribalta almeno in Italia e quindi anche questo è un dato dal nostro punto di vista positivo perché si è parlato in questi giorni molto di Salone del Libro ma anche molto di Torino e molti che poi hanno vissuto il Salone e poi hanno potuto apprezzare la nostra città, quindi direi per noi assolutamente un risultato positivo. Nel filone di tutto quello che è l'impegno di Camera di Commercio dalle ATP Finals all'Eurovision almeno due anni fa, le finali di basket e le altre iniziative che riempiono le strade poi della città, forse non tutte hanno questa portata internazionale. Beh, noi crediamo molto sull'attrarre grandi eventi a Torino, penso anche tu non li hai citati, anche al Giro e al Tour, il Giro c'è già passato, il Tour sarà a fine giugno ma anche altri eventi che magari non saltano subito all'occhio ma che sono importanti come i congressi, anche i congressi scientifici. Crediamo molto sui grandi eventi perché crediamo che sia un modo appunto per fare conoscere Torino nel mondo perché uno viene a vedersi la partita di tennis piuttosto che la finale di basket e poi magari si innamora degli agnolotti o dei gianduiotti e ci torna con la famiglia, ci torna con gli amici e quindi crediamo molto in questo effetto volano dei grandi eventi. E se magari un imprenditore vede che qua ci possono essere delle opportunità o una fecondità da accogliere le sue idee? Questo cerchiamo di farlo, devo dire che è la cosa che riesce più difficile perché abbiamo capito nel tempo che anche l'imprenditore, anche il grande imprenditore che è qui, è qui per quell'evento e quindi quasi si dimentica delle proprie cose. Per cui abbiamo cercato di allestire dei B2B a fianco agli eventi, non sempre hanno avuto il successo ma continueremo a farlo sicuramente. Qua di fianco a noi nel Book Club tanti gli appuntamenti organizzati da Camera, non solo questa piazza pubblica di risonanza e tanti di questi eventi dedicati al B2B in questo caso, che è una delle anime però forti e importanti del Salone. Abbiamo scoperto che il Salone in realtà inizia il mercoledì per il B2B con la vendita dei diritti d'autore e va avanti fino al venerdì. In questi molti appuntamenti avete raccontato quella che è la filiera dell'editoria, le questioni legate ai libri per bambini piuttosto che ad altri progetti. Me ne viene in mente uno, l'Erasmus per i giovani e quindi anche in questo però Camera di Commercio trova una casa specifica dentro questo Salone internazionale. Sì, appunto lo spazio per conferenze, diciamo così, la sala è servita a raccontare le tante cose che la Camera di Commercio fa a un pubblico un po' diverso da quello solito a cui ci rivolgiamo. Sala sempre piena tra l'altro. E quindi anche questo è una ricaduta sicuramente positiva del nostro essere al Salone, del nostro partecipare al Salone. Tu prima mi chiedevi di alcuni ospiti, noi abbiamo realizzato un clip con Mario Calabresi, io chiederei di mandarla in onda e così poi commentiamo insieme quello che ha detto il già direttore di Stampa e Repubblica, come chi la chiamavamo qua in Piemontese, la busiarda. Con Mario Calabresi al Salone del Libro, tante le edizioni che tu hai vissuto con vari ruoli, sempre da protagonista, che salone hai trovato e che salone stai trovando? Un salone bellissimo, pieno, ogni anno ci sono più persone e più offerta. La quantità di dibattiti, di scambio è incredibile, non finisce mai di stupirmi. Tanti i giovani, ma forse siamo solo noi di una certa età che ci stupiamo di tutto questo, però ha un significato questa presenza? No, facciamo bene a stupirci, perché soltanto 3, 4, 5 anni fa si diceva che la lettura ai libri ai giovani era un rapporto finito, che non avremmo più visto che i libri sarebbero morti. Invece i libri stanno benissimo e stanno benissimo perché i giovani sono tornati a leggere tanto. In Italia, grazie anche a una tua intuizione, il mondo dei libri dialoga con il mondo dei podcast. Quanto è importante questo? Non si sottrae mai un lettore, un pensiero, ma si moltiplica, no? Sì, quello che abbiamo visto è che quando un libro diventa un podcast o un libro diventa una serie tv, un film, le due cose non è che uno esclude l'altro, anzi si arricchiscono e si rilanciano uno con l'altro. Sono complementari, non sono concorrenziali. Grazie Mario, Mario e buon salone. Guido, hai sentito Mario Calabresi ieri sera tra una chiacchierata e l'altra, un tuo commento? È vero quello che dice, tutte le statistiche ci portano a dire che in realtà chi legge più libri non sono gli anziani, come uno potrebbe immaginare, ma sono i giovani. E quindi questo depone a favore del futuro, a favore del fatto che ci sarà un futuro per i libri, per la lettura. Certo i giovani poi hanno anche una modalità di fruizione delle notizie, delle informazioni, insomma si formano su altri media e non solo più sulla carta stampata. Quindi l'essere presenti su altri media è importante sempre di più. Noi come Camera di Commercio investiamo molto anche su questo, sui social, con la presenza sia su LinkedIn che su Twitter e su Facebook, ma soprattutto investiamo molto in contenuti digitali. Anche l'operazione che stiamo facendo proprio qui, tutte queste pillole sono registrate e sono disponibili sul nostro canale YouTube. Questo credo che sia un altro modo per raggiungere un pubblico che difficilmente avrebbe neanche saputo che cos'è la Camera di Commercio, ma che se si vede un video, un'intervista con un personaggio che gli interessa se lo va a vedere. Volevo dirvi, non l'ha detto Mario, ma noi abbiamo fatto con lui e altri giornalisti un incontro sul giornalismo social, non come social media, ma sul giornalismo che si occupa di temi sociali. e per capire quanto questi temi stiano cambiando anche il modo di fare il giornalismo, il modo dei giornalisti stessi di porsi verso i propri lettori. È stato un incontro molto interessante e molto partecipato anche quello. Arrivo da, prima di questo salone, ero per lavoro a un altro salone che è il Salone Internazionale del Mobile Milano. Quindi siamo in una delle prime edizioni, dopo un po' di tempo in cui la diatriba Torino-Milano è stata bypassata, l'abbiamo ampiamente superata e di questo ne siamo contenti. Però la domanda rispetto a quello che è il Salone del Mobile di Milano e tutti quelli che sono gli eventi notturni, i serali, i cittadini e quindi un coinvolgimento anche del centro della città, che qua la fondazione svolge rispetto a molte periferie con il Salone Off, per portare il libro dove è giusto anche che sia, a disposizione di tutti. Però abbiamo come sistema a Torino ancora dei passi da fare e magari anche qualche cosina, umilmente, che possiamo imparare dalle esperienze milanesi. L'esperienza del Salone del Mobile di Milano credo che sia difficilmente replicabile. Sono stati loro molto bravi a occupare proprio intere zone della città con parti del Salone e eventi 24 ore su 24. Credo che su questo abbiamo ancora molto da fare. Sicuramente noi lavoriamo molto su questo tema, perché, ad esempio, le ATP, il rischio che correvamo è che fossero, così come a Londra, un'astronave che atterrava in città per dieci giorni e poi partiva senza lasciare nulla alla città o a chi l'aveva visitata. E quindi il fatto di aver offerto l'apertura alla città, di aver fatto conoscere le nostre produzioni enogastronomiche, e non solo, è stato un modo per appunto contaminare il mondo dell'evento con l'esterno. Certo c'è molto ancora da fare sul tema e su questo però siamo impegnati. In merito alle contaminazioni, il legame di Camere di Commercio con le altre Camere, le altre entità camerali dell'Italia è evidente. Noi ormai abbiamo affezionati ospiti alla Camera di Commercio di Sassari, con cui c'è questo piacevolissimo gemellaggio. Rivolgendoci anche all'esterno, quindi superando questa diatriba Torino-Milano, ma guardando all'altro salone internazionale del libro, che è un po' il faro e la bandiera, che parlo quello di Francoforte, quanto anche la Camera di Commercio con le sue relazioni con gli altri enti camerali è già, perché magari è una cosa che io o noi telespettatori non conosciamo, in pista per fornire strade di crescita. Noi saremo quest'anno al salone di Francoforte, perché nell'area organizzata dall'Agenzia che promuove le imprese italiane all'estero, avremo un'area dedicata alle imprese della filiera del libro piemontese e contiamo di riempirla anche di... Portiamo un pezzo di quello che è capitato al book club a Francoforte. Molto bello tutto questo. Un augurio, secondo te la prossima edizione del salone del libro? Noi lo sappiamo, questa conferenza stampa è per metà racconto di un'edizione che è riuscita bene e di ringraziamento per le tantissime persone e ci tengo a sottolineare i volontari, abbiamo parlato con alcune volontarie, oppure persone che in altri momenti della loro vita fanno un altro mestiere, il personale di Camera di Commercio qua presente, che mi permetto di ringraziare per la splendida accoglienza e professionalità, che si prestano a questo evento. Però c'è un'altra metà della conferenza stampa che è già, ed è innegabile, il sogno dell'edizione nuova. Secondo te quali sono le linee per iniziare a immaginare la nuova edizione del salone del libro? Un po' risolvere i problemi che sono stati messi in evidenza dall'edizione di quest'anno, in particolare la coda all'ingresso, non è immaginabile che ci sia quella coda il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio, gli organizzatori devono trovare una qualche soluzione. E poi sicuramente il lato della maggiore apertura verso la città. Su questo dovremmo lavorare tutti assieme per rendere molto di più, come dire, contaminata la città dal salone. Sei un papà che fatica a far leggere i propri figli? Li hai portati o tu o tua moglie qui al Torino dicendo magari le toccate qualcuno oppure loro sono naturalmente predisposti? No, assolutamente, sono naturalmente predisposti a non leggere. Per fortuna la scuola li costringe a leggere un libro al mese per cui almeno sei o sette libri all'anno li leggono. Non una fatica mostruosa ma lo fanno. E c'è, hai avuto una soddisfazione personale del dire guarda porto a casa questo libro, lo so che non lo leggete ma vabbè io lo lascio lì e poi uno dei tuoi figli ti ha detto ma sai papà che era proprio bello? No. Non volevo mettere il dito nella piaga, provavo a fare un po' di colore all'interno di questa edizione che comunque noi vediamo l'istituzione, no? Però poi dopo parli con le persone e c'è tanto del contenuto esistenziale di ogni persona che nella scelta di quel libro. Mi fanno segno, la professionalità delle tue colleghe mi chiedi di invitare subito una giovane ospite qui. Bisogna fare il giochino. Il giochino. E concludiamo con il giochino di Camera di Commercio. Allora Guido io ti lascio il presente. Accomodati pure qua. Come ti chiami? Io sono Marta. Tu sei Marta e vieni da? Da Torino. Faccio parte del gruppo di lettura del Bookstock. Ah, quindi sei una delle perle di questo salone del libro. E della tua prima edizione da protagonista o da partecipante a questo? Sì, al quiz sì. E invece prima eri una abituera del salone oppure lo snobbavi? Ho iniziato l'anno scorso a lavorare qua appunto come parte del gruppo di lettura. Tuttavia da piccola venivo con i miei genitori, comunque ho visitato da lettrice il salone. Da lettrice il salone. Allora ti faccio questa domanda, visto che tu ti occupavi del buco del gruppo di lettura e parliamo di quelle panda che speriamo che non si estingua mai, che sono le biblioteche. Perché poi quella biblioteca delle passioni che noi viviamo qua, in realtà dovremmo ricordarci che possiamo trovarla spesso in ogni quartiere, anche se chi le gestisce poi fa tanta fatica a portarle avanti. Quante biblioteche contiamo in Piemonte? Io ti do tre numeri. 544, 792 o 827? Io sono ottimista e quindi spero che siano 827. Sono 827, che vuol dire più o meno con un calcolo sparnometrico una ogni mille. Una ogni mille. Però una ogni comune perché sono 820 comuni in Piemonte. Una ogni comune. Almeno una ogni comune. E te lo dice un già sindaco canavesano. Possiamo dire allora hai vinto, ti consegniamo la borsa di Camera di Commercio. Che libro ci metterai lì dentro? Il mio libro preferito, Persone Normali di Selly Runi, di sicuro avrà uno spazio nello zainetto. Persone Normali, con questo messaggio di persone normali che grazie ai libri immaginano e raccontano storie, creano storie e che forse tanto normali allora non lo sono. Insieme con Guido Bolatto, segretario generale di Camera di Commercio, vi salutiamo. Ringrazio Camera di Commercio. Volevo ringraziare io Don Moreno, ma attraverso Don Moreno tutta la banda che ha collaborato a far vivere questo spazio sia della Camera che dei Salesiani, che di Rete7. Che di tutti. Di tutti, tutti, perché davvero credo abbiate fatto un gran bel lavoro. Grazie. Il ringraziamento è nostro con Rete7, con il personale di Camera veramente stupendo che ci hai affiancato come ogni anno e vostro che avete ascoltato le nostre storie, perché se non c'è qualcuno che ascolta non ha senso raccontare. Grazie ancora. Grazie. E buon Salone del Libro. Buona vita. Grazie.